ciao ragazzi ben ritrovati sul mio canale quest'oggi voglio mostrarvi quella che per me una delle balestre migliori e migliori perché semplice da assemblare economica abbastanza precisa sono 150 libri quindi più o meno in chili sono poco più di 68 68 kg quindi facili anche da armare la marca è crossbow quindi balestra in inglese io l'ho pagata 138 euro che la versione camo magari costa un pochino di più quindi può variare anche dalle punto 140 150 160 euro le frecce sto usando quelle che ci sono in dotazione che danno più o meno appunto 3 4 frecce cosa molto importante che vi raccomando quella di passare sempre quella che è la cera su sul cordino e sul s tutto quanto quello che è appunto il non so come si chiama comunque punto di passaggio della freccia perdonate ma non sono molto tecnico e la corda si monta facilmente perché basta che uno mette il piede in questa maniera tira con un po di forza smonta la corda e rimonta la corda può essere magari all'inizio un po un po complesso ma diciamo che tutto sommato è relativamente fattibile a io gli ho messo anche una calamitina qui sotto perché così invece che avere l'appoggio a piedi appunto per fare per far forza e caricarla che balla con magneto qua sotto tac resta attaccato ed è perfetto una volta armata la sicura è qui quindi basta tirare indietro la levetta e questa poi spara tranquillamente e che dire di più proviamo il bersaglio uno di quelli uno di quelli belli belli spessi da 10 12 centimetri anche rinforzato quindi la freccia non deve passare dietro al limite tocca leggermente il bancale ma senza rovinarsi quindi andiamo appoggiare la telecamera monotale che si vede appunto un po di bersaglio e un po di prospettiva quindi così è perfetto detto questo per me ripeto questa qui è la più totale economica semplice da montare relativamente precisa perché comunque spari dai 10 15 anche 20 metri in maniera abbastanza abbastanza precisa ti diverti e se dopo dovesse servire diciamo che il pranzo la cena te lo porti a casa ecco se dovessi servire poi ci sono svariate frecce con con altre tipologie di punte anche vietate se così si può dire però in caso di sopravvivenza invietato è molto relativo che dire quindi si fa così si mette il piede dipende si tira sulla corda sono appunto come dicevo 68 kg di tiro più o meno 65 qui c'è a non va indietro va in avanti la freccia vedete tre linguette si mette con il rosso verso il basso si inserisce più o meno fino a fine corsa più o meno che la tengo sempre un pochino più un pochino più staccato dalla corda e ho quattro frecce con me quindi farò farò un po di tiri e poi siccome ne ho molte di più di frecce però non voglio riempire il il bersaglio finite le quattro frecce tornerò a riprenderli allora sono più o meno dieci metri un po basso carichiamo andiamo sui 15 siamo già a 15 siamo già a 15 qua come vedete è bella precisa rimango ancora a 15 con questi altri due tiri è potente è potente spara bene insomma è divertente e fa il suo dovere però per essere imprimetito diciamo che fa il suo entra entra bene entra entra intanto così è quindi ha la sua discreta potenza facciamo ancora qualche tiro provo da 20 metri faccio vedere che mi conta sono 1 2 ok riportare 15 6 9 20 eh qua siamo sui 20 metri provo quattro tiri da 20 metri come potete notare ragazzi è dritta spara dritto basta prenderci un po la mano e il gioco è fatto e voilà si si è davvero soddisfacente c'è stato praticamente quasi un centro ma faccio ancora tre tiri stavolta mi sposto sempre da 20 metri vediamo di colpire un po un centro ma questa qui è la balestra totale per me semplice economica tira dritto abbastanza potente si carica facile meglio di così mi ripiazza 20 faccio gli ultimi quattro tiri come potete notare i colpi sono tutti tutti lì tutti lì sono tutti lì eh dopo un po ci piglio la mano eh ci piglio la mano bene bene eh sì ragazzi è una bella balestra è una bella balestra funziona bene guardate che bei che bei tiretti cioè comunque sono sono tutti lì e come dicevo ci si incastra veramente veramente di molto quindi a che dire amici miei è un un bello strumento qui qui in italia è di libera vendita ovviamente è meglio utilizzare una proprietà privata e senza nessuno intorno come ripeto economica facile da montare veramente due viti con le istruzioni si fa molto molto facile da qui si regola l'alto al basso destra o sinistra e detto questo giocateci e godetevi la vita buona vita a presto e tanta roba ciao fratelli miei un abbraccio e e e e e e e